Lutto cittadino per il giorno dei funerali che saranno a spese del comune. Il Consiglio Comunale di Cassano all'Oionio ha deciso così nella riunione di ieri, convocata d'urgenza, per discutere del triplice omicidio di Giuseppe Iannicelli, della sua compagna e del nipotino di soli tre anni. Un consesso partecipato dalle istituzioni e dai cassanesi vogliosi di dimostrare che, in questo lembo di Calabria, i brutali assassini sono la minoranza. Ma intanto resta forte lo sgomento proprio per le brutalità raccontate dai particolari che emergono dalle indagini seguite al ritrovamento dei corpi carbonizzati delle tre vittime in aperta campagna. Sono 15, secondo gli investigatori, i litri di liquido infiammabile utilizzato per dare fuoco ad auto e vittime, cancellando così le tracce biologiche. Dei corpi sono rimasti solo gli scheletri dopo aver bruciato per ore. Il piccolo Nicola sarebbe stato prima freddato con un colpo di pistola alla testa. Ma perché anche Cocò, così era chiamato affettuosamente il piccolo? Secondo gli inquirenti, Iannicelli, il nonno e molto probabilmente il vero bersaglio dei killer, non si separava mai da lui dopo averla avuto in affidamento a causa della detenzione in carcere dei genitori. La notte dell'omicidio è stato ipotizzato dagli investigatori, gli assassini lo aspettavano sulla via del ritorno a casa e la compagna marocchina e il nipotino sarebbero stati giocoforza coinvolti nell'agguato. Il luogo dove è stata rinvenuta la Fiat Punto con a bordo i tre corpi carbonizzati, infatti, si trova a poca distanza dall'abitazione dell'uomo. Per lui, e anche questa è un'ipotesi, gli autori del delitto hanno lasciato una moneta da 50 centesimi sul cofano. Tradotto dal linguaggio della criminalità, la tua vita valeva poco. Per tutta la giornata di ieri si sono susseguiti vertici tra le forze dell'ordine e i magistrati. È ancora caccia all'uomo, mentre da oggi le indagini saranno dirette esclusivamente dalla DDA di Catanzaro.